L'associazione Rock On Martirano Lombardo è orgogliosa di annunciare l'arrivo in Calabria per la prima volta in quasi 40 anni di carriera di uno dei musicisti più influenti e innovativi della storia della chitarra moderna, sua maestà Steve Vey. Il celebre guitar hero statunitense sarà Martirano Lombardo il 24 settembre per l'unica tappa calabrese dell'Alien Guitar Secret Masterclass Tour, in cui rivererà i segreti di uno stile inimitabile che ha rivoluzionato l'approccio alle sei corde. Lanciato nei primissimi anni Ottanta da Frank Zappa come trascrittore di partiture e successivamente St. Wittar, Vey si è imposto come chitarrista e per tecnico e originale, grazie ad una costante ricerca armonica alimentata dall'esplorazione delle possibilità nomatopeiche dello strumento e da un'irrefrenabile passione per gli esperimenti più insoliti, qualità che lo hanno portato a collaborare con nomi del calibro di David Lee Roth e White Snake, prima di intraprendere definitivamente una brillante carriera solista, impreziosita dalla presenza fissa del G3 di Gioisa Triani e del Grammy per Passion Warfare, classico del 1991, divenuto un must imprescindibile per ogni ispirante Axeman. La Masterclass avrà luogo nella sala polifunzionale Cesare Nava a partire dall'eventi e seguirà una serie di punti programmatici in cui analizzerà e illustrerà, attraverso l'esecuzione di classici e del suo straordinario repertorio, tecniche, teorie ed esercizi mirati al raggiungimento dei propri obiettivi. Una lezione a 360 gradi che andrà a scandagliare ogni singolo aspetto dell'universo musicale, incluso il music business e l'importanza di suonare con altri musicisti, dando la possibilità ai più fortunati di misurarsi con il chitarrista del diavolo durante una serie di James Session. È prevista inoltre la presenza di un interprete, che consentirà a tutti di poter comprendere quanto spiegato e confrontarsi con l'artista attraverso delle domande.